Ha voluto incontrare le donne del Partito Democratico l'assessore regionale al turismo Michela Santicheris, al centro del confronto alla situazione politico-regionale e i progetti in itinere dell'assessorato al ramo. Credo che sia straordinaria questa unicità della Sicilia di poter votare un uomo e una donna. Credo che sia un modo per cercare di far sentire la voce di chi ha fatto fatica in passato ad essere presente in prima linea. Credo fondamentale l'aiuto che viene dato, che sicuramente in futuro non sarà più necessario, visto che le donne dimostreranno la loro grande capacità di amministrare. Credo che la Sicilia sia un bacino unico nel suo essere. Un governo che ha dimostrato di lavorare bene, un presidente che ha dimostrato di amministrare parlando con tutte le forze politiche. Quindi credo che potrebbe essere un momento in cui anche la Sicilia fa vedere che è diversa rispetto alle altre regioni. Credo che l'esperienza che sta vivendo in questo periodo il territorio siciliano sia un'unicità rispetto al territorio nazionale. Per quanto riguarda questa città, credo che si dimostri che il progetto vale molto di più rispetto a quelle che sono state in passato, delle divisioni politiche, ma la concentrazione su dare un progetto che dia futuro alla città. A proposito di città, negli giorni scorsi abbiamo saputo che il 7 giugno ci sarà un incontro importante sull'aeroporto di Comiso e anche sul discorso turistico ha centrato molto del suo intervento. Che prospettive ci sono per la città di Ragusa sotto questo profilo? Allora, il 7 giugno verrà la Commissione europea Comiso. Faremo un incontro tecnico, speriamo che venga anche il ministro, verrà il presidente e ci saranno soprattutto gli amministratori delegati delle compagnie aeree. Quindi vuole essere un incontro operativo in cui cerchiamo di capire in che direzione dobbiamo andare per avere il prima possibile delle linee che possano portare turismo e non solo sul territorio. Io mi sono impegnata subito perché trovo l'avere una struttura così bella e nuova, ancora senza potenzialità di espressione per quanto riguarda i voli, mi sembrava una cosa su cui concentrarsi, lavorare e cercare di valorizzare questo territorio anche dal punto di vista turistico che offre tantissimo. Quindi il mio vuole essere un tavolo tecnico più che politico il 7 giugno per riuscire anche a coinvolgere gli attori europei e nazionali per aiutarci a dare un sviluppo all'aeroporto che per Ragusa sarebbe fondamentale per il turismo anche di eccellenza che dovrebbe essere naturale e sempre presente su questo territorio.